Quello di oggi è un video diciamo omaggio dove vi faccio vedere e soprattutto sentire una delle accordature che dimostro sul mio corso d'accordatura scelta gestione del suono che è disponibile sul mio sito. È proprio un pezzo di video di una delle sei accordature che dimostro ma veramente una volta imparato il metodo le possibilità sono in pratica infinite ed è una accordatura che suona abbastanza la batteria è veramente piena è molto divertente da suonare e mi sono divertito anche a metterla in pratica sulla mia Grets USA Custom che è la batteria che ho usato in pratica per quasi tutta la durata del corso che dura circa due ore e mezza sono 25 video la durata di due ore e mezza e sono tre tom due timpani cassa un bel rullante usati tantissimi dalla disponibilità che ho ed è veramente molto 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 bella quindi sempre cuffie mi raccomando auricolari prendetevi due minuti suono questa Grets USA su una base con questa accordatura di terza minore e anche sentirete i tom singolarmente buon ascolto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.